Beh, è il re degli italiani, sicuramente la storia del nostro paese, dei nostri modelli di comportamento è lui, Albertone, l'Albertone nazionale, ci ha raccontato tutto, il vedovo, lo scapolo, il marito, soprattutto il medico della muta, sono 50 anni fa, è successo 50 anni fa che il film ha avuto un grande successo ed era una critica di come i medici acchiappavano i pazienti per fare più soldi, tutto il sistema sanitario in discussione, non era solo un comico, era un attore drammatico, con venature grottesche che raccontava, distorcendola una realtà molto forte che ognuno di noi affacciandosi alla finestra, andando per strada, poteva incontrare. I personaggi disordi li potevamo incontrare per strada, come l'Americano a Roma dove c'è questo fanatismo filoamericano del dopoguerra che lui interpreta in maniera stupenda, ho incontrato Nanni Loi in vacanza tantissimi anni fa, ci siamo messi a parlare di lui, elogiava la sua capacità di cambiare anche il copione, di andare a braccio e gli attori bravissimi intorno a lui lo seguivano, girarono un episodio di Made in Italy e Alberto si inventò quasi tutto e poi mi diceva Loi, non è vero che era un avaro, questa era tutta una costruzione non veritiera che nuoce al personaggio perché era un uomo generoso e molto divertente. Alberto ci ha regalato grandissimi film e soprattutto è stato diretto da grandissimi registi, Fellini, Scola, Comincini, tutti grandi e Moricelli nella grande guerra, tutti grandi a far emergere le virtù e le capacità grandissime di un attore che mai potremo dimenticare.